Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate al barbasso, barbasso di fortuna, barbasso incasinato, barbasso con virgola, ho un problema con la lavatrice, vabbè, è stata una giornata assurda e non ho avuto un secondo per fare questo video, vi prometto che cercherò da domani di essere di nuovo costante con i miei ritmi. Inter-Salisburgo 2-1 perché il 3-1 ce l'hanno annullato, non una bella Inter, non una grande Inter però posso dirvi è giusto vincere anche partite così, è giusto nel cammino di Champions, è giusto che si consideri in qualche modo la capacità della squadra di non essere sempre bella ma essere sempre efficace. Che è la cosa importante. Molto contenta perché questi tre punti sono fondamentali, ve l'avevo già detto nella prima partita, specialmente considerato quello che probabilmente vedremo, anzi che è accaduto, probabilmente vedremo accadere con il Benfica che ha perso con la Real Sociedad e quindi si avvia mestamente verso, non è detto di proprio non rimanere ecco in Europa ma sicuramente verso il posto, almeno il posto in Europa League, potrebbe accadere di peggio. Quindi sinceramente benissimo il risultato di ieri, non vorrei che arrivassimo con poca tensione alla partita di Salisburgo perché fatti i tre punti lì avremmo chiuso completamente la pratica e sinceramente è la cosa che mi auguro. Molto molto felice per il risultato, pochi cazzi eh, pochi cazzi sulla questione di chi, cosa, come, perché ci aspettiamo di performare bene, male, va bene così. A volte servono i punti dei nervi, a volte servono i punti come, come Sanchez che fa gol e quindi sono felicissima. Continuo a perdere iscritti probabilmente perché non, non ho tantissimo ecco postato in questi giorni ma, se vi piace iscrivetevi. Vado a continuare a controllare la lavatrice, felicissima per il risultato, ci sentiamo domani, spero con un po' più di calma. Stop whining.